buongiorno a tutti oggi è il primo agosto giovedì primo agosto e questo una diretta velocissima perché mi sono arrivate dei messaggi e quindi mi pare giusto tranquillizzare tutti allora diverse persone mi hanno scritto perché il decreto il governo ha emanato un decreto in cui dicono che parificano la cannabis light e quindi cbd eccetera alla canapa con thc alla cosiddetta marijuana ok e quindi la vieterebbero il decreto non dice questo allora il decreto dice che anche la cannabis priva di thc non può essere usata a uso interno ok è per questo che noi della poderosa mettiamo nelle nostre confezioni ben scritto uso esterno ok noi siamo registrati anche come azienda cosmetica quindi non corriamo nessun rischio potete acquistare tranquillamente tutti i nostri prodotti e non incorrete in nessun tipo di penalità nel caso dovremmo essere noi a incorrere ma non incorreremo sicuramente seconda cosa molto importante questo governo ne aveva già fatto un altro di decreto simile nell'ottobre dell'anno scorso decreto che è stato impugnato il governo ha perso al tar del lazio hanno dichiarato che questo decreto non aveva non aveva senso e e quindi verrà impugnato anche questo perché il decreto è contrario a quello che dicono le legislazioni europee e internazionali ok quindi decreto già non è una legge uno due fosse anche deve sottostare deve essere diciamo in linea con le leggi europee e internazionali cosa che non è quindi questo decreto decadrà come il precedente faranno la figura dei pinocchietti perché non sanno nemmeno scrivere le leggi ecco è un governo di ignoranti quasi tutti diciamo tutti i governi sono sono così ma questo diciamo su sulla cannabis sta sicuramente dando il meglio o il peggio di se stesso quindi state tranquilli potete acquistare normalmente non c'è nessun tipo di divieto nessun tipo di imposizione si può continuare tranquillamente ok e poi quando decadrà manderemo la notizia dell'ennesima figuraccia del governo meloni buono agosto